Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi la coloratizzazione effettuata sulla mia nuova carabina, il Norinco camerato in 2,23, il Norinco M4, diciamo che la denominazione esatta è CQA in 5,56, quindi 2,23. Allora, chiaramente il fucile arriva nella classica colorazione completamente nera, quindi gli interventi che sono stati effettuati sono sostituzione del calcio, dell'impugnatura, del trigger guard e dell'hand guard. Tutti questi accessori sono praticamente della Magpul originali, la serie MOE. Quindi andiamo un attimo prima di tutto a vedere il calcio, che è un MOE appunto collassabile in diverse posizioni. Ottimo, ottima solidità, un leggerissimo gioco ma nulla di più rispetto all'originale, quindi è assolutamente soddisfacente. Poi l'impugnatura è sempre una MOE, sempre anche questo caso originale. Ecco, parliamo un attimo dell'installazione. L'installazione del calcio è stata veramente facilissima. Il calcio è con il buffer commerciale, mentre tutta l'arma più o meno ha misure, è mille specche, quindi diciamo alle misure militari. Il buffer tube è commerciale, quindi attenzione se doveste acquistare un calcio aftermarket dovete sceglielo in commercial sites, praticamente. Buffer commerciale, quindi installazione del calcio veramente semplice, nessun problema. Installazione dell'impugnatura sempre MOE, nessun problema, si accede da sotto alla vecchia impugnatura e si rimuove un vitone passante, praticamente un bullone, e si installa la nuova. Installazione del trigger guard, l'unico problema è che praticamente dovete, intanto vabbè, cacciare la spina, questa spina del vecchio trigger guard usando un cacciaspine abbastanza sottile e appunto dovete procurarvi. Il secondo problema, forse quello più leggermente, come dire, importante, è che, non so se si vede, questa non è una spina, ma è bensì una piccolissima brugola, che praticamente può essere impegnata solamente da una brugola con passo americano di un sedicesimo di pollice. Quindi, nel set delle brugole che abbiamo a casa, molti di noi, o che possiamo reperire normalmente nelle ferramenta, la brugola più piccola non impegna questa vite. Dovete procurarvi, dalla ferramenta, chiedere spessamente una brugola con passo americano da un sedicesimo. È abbastanza facile trovarla, l'ho trovata, diciamo, non ce l'hanno tutte le ferramenta, ma quelle più fornite ce l'hanno. Una volta risolto questo problema, inserire il trigger guard è veramente semplice. L'ultima parte è l'hand guard, sempre nella MOE. Possiamo vedere appunto il simbolo qui. Qui c'è stato abbastanza da penare perché, prima di tutto, come forse saprete, per installare o per rimuovere un hand guard, occorre agire su questo ring, questo anello, tirandolo indietro, e in questo modo si libera praticamente l'hand guard, che è un guscio accoppiato, e quindi si riesce a, diciamo, ad aprire e a togliere. E questo va bene, però farlo a mani nude senza l'attrezzo apposito, che semmai poi vi mostrerò, è abbastanza ardo. Con l'attrezzo apposito è diventato più semplice, però ho dovuto ordinarlo, mi è arrivato da Inghilterra, quindi ho dovuto attendere un po'. Oltre a questo, sebbene il fucile sia con misure, diciamo, militari, quote più o meno standard, secondo me hanno fatto qualche piccolo errore sulla misura dell'hand guard, perché non la Magpul, ma i produttori Norinco, in quanto per inserirlo ho dovuto con il dremmer lavorare leggermente nella parte praticamente interna, che ormai qua non si vede, che andava a impegnare questa specie di anello. Ho dovuto limare leggermente i due incastri in polimero dell'hand guard MOE. Una volta fatto questo, ma è stato veramente questione di pochi millimetri, l'hand guard ha calzato alla perfezione e come vediamo è perfettamente accoppiato, non ci sono nessun gioco. L'altra cosa inserita successivamente sono i caricatori. Allora, questo in particolare è un OAMag da 30. OAMag è la nuova denominazione dei caricatori GMAG prodotti dalla Oberland. Non so se riesco a farvi vedere, più o meno. Comunque sono prodotti dall'Oberland tedesca, ecco. E la vecchia denominazione era appunto GMAG, attualmente si chiamano OAMag. A questo ho inserito un ranger plate sempre della Magpul, colorato come l'hand guard, il trigger, l'impugnatura e il calcio, nella colorazione Dark Earth. Sì, Dark Earth, esatto. Quindi questo è un caricatore appunto OAMag. Questo invece è un caricatore PMAG, che è appunto il caricatore originale della Magpul. E diciamo che, come possiamo vedere, sembrano praticamente identici. In realtà a livello di qualità costruttiva e diciamo anche al tatto, sembra molto più valido il PMAG, cioè il Magpul. Devo ancora testarli a fuoco, ma inserendo chiaramente il limitatore a 5 colpi, ecco, perché questo è molto importante. I caricatori attualmente sono liberamente acquistabili, in quanto il catalogo nazionale è stato abolito. Però l'arma è importata con caricatore ufficiale da 5 colpi, quindi se noi comunque acquistiamo dei caricatori maggiorati, dobbiamo inserirvi dentro un riduttore a 5 colpi e non possiamo comunque in ogni modo riempire i caricatori per un utilizzo in poligono, diciamo. Quindi diciamo che sono puramente estetici per evitare il caricatore piccolino mozzo. Altra piccola accuratizzazione è stata l'acquisto appunto e l'installazione di questo attacco per cinghia. Non mi ricordo sinceramente la ditta, però vi inquadro il logo, così magari poi lo scriverò nella descrizione. Comunque molto comodo perché ha la possibilità di essere appunto di attaccare eventuali sling, cinghia sia da questa parte che appunto come nel mio caso da questa. Ha l'attacco appunto ad anello oppure a passante più largo e cosa ben più importante, non necessita di rimuovere il buffer tube come molti altri. Infatti è semplicemente fissato con un dado passante che in pratica stringe questo attacco al buffer tube già esistente. Lo scotto che devo pagare, almeno nel mio caso, è che il calcio non chiude completamente, cioè come possiamo vedere l'ultima posizione in fondo non scatta e rimane praticamente non bloccato. È una cosa di poco contro, nel senso che non quasi mai si sparerà da una posizione completamente collassata, ma basta appunto andare indietro di pochissimo, quindi è tranquillamente aggirabile. L'ottica sopra è una cinesata pure semplice, nel senso che è stato un acquisto su ebay, è un similacog, per adesso diciamo mi ci trovo abbastanza bene, mi riservo di provarla un po' meglio. Comunque fa, diciamo che fa il suo sporco lavoro. Vediamo se riesco a inquadrare qualche cosa, per farvi vedere più che altro. Ecco. Ecco, non so se riuscite a vedere il reticolo. Comunque diciamo che è accettabile, l'ho già provata a 100 metri ed è abbastanza soddisfacente appunto. Bene, questo è quanto. Il fucile, ripeto, è un 2.23. È un'ottima scelta, se vogliamo appunto spendere poco per un M4, in quanto marche ben più blasonate fanno arrivare il prezzo. Questo è tranquillamente acquistabile per meno di 1.000 euro. Non sono più preciso perché poi, a differenza di diverse piazze in Italia, si trova con differenti prezzi. Comunque, diciamo sicuramente meno di 1.000 euro. È un fucile prodotto in Cina, questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma vi posso garantire che ha tutte le caratteristiche per soddisfare un utente che diciamo sia contenti ma che ha voglia comunque un buon prodotto. Grazie per aver visto il video e arrivederci alla prossima.